Sono venuti a salvarci? Sono venuti a rubarci il lavoro? O le due cose insieme? Arrivano dal futuro e sono finiti nel musical di un altro pianeta, il nostro. Porco il circuito alla Temponave, senza forza di gravità, sei barra giugno 2009, poche prove, noi siamo qua. La nuova riga le che cosa vorrebbe, ma ci chiede e non ci fa bene, i quali si credi, mantiene con te, ma di te la faccia o no? Se nel futuro non c'è un lavoro, nel passato si troverà, ma quanti ingiustizie da formattare, è di gomma la verità. Non siete legati, chiamati gli stessi, ma ci chiedi e non ci fa bene, trappano missili, vieni nei cacoli, per la gloria. Ma le diaboliche forze finanziarie del male non ci stanno e contro i Temponauti scateneranno cartomanti, suini e i terribili carrelli della spesa senza pilota. Ci sarà un futuro per la specie umana? E se sì, quanto ci costerà? Porco il circuito alla Temponave, senza forza di gravità, sei barra giugno 2009, poche prove, noi siamo qua.